Preoccupiamoci di Hit, comparirà Hit il Clown, versione gigante Ah ma qua non mi possono prendere, meglio così, meglio così, guardate qua non ci arrivano E vedete perché è triste questo finale, perché comunque Charlie viverà con i sensi di colpo Carissimi amici, sono PaniniTube e oggi torniamo su Dead Park 2 Perché finalmente andremo a vedere i finali più tristi di questo gioco E sì, perché ci sono due finali, uno ha un finale brutto, l'altro invece è un finale più triste E non vedo l'ora di vederli qua insieme a voi Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere salutati qui sotto nei commenti basta che me lo chiedete Io vi saluto direttamente sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Vi ricordo che su questo canale faccio video tutti i giorni Da lunedì al venerdì alle 15.05 e invece sabato e domenica alle 12.05 a mezzogiorno Quindi tutti i giorni un nuovo video Ma adesso direi di partire, direi di cominciare e tocchiamo play Guardatelo qua, hit il clown Questa volta hit il clown dovrà vincere Dovrà vincere contro di noi No, no Va bene, tocchiamo qua Partiamo dal salvataggio che abbiamo lasciato la volta scorsa E in questo caso dobbiamo andare direttamente al parco di Dead Park Ma non dobbiamo attivare le torre di controllo Ok, questo è il punto dove abbiamo lasciato la volta scorsa Eccoci qua Apriamo qua la porta Su, su, apri, apri, perfetto, perfetto Ciao Andiamo di qua, andiamo a salutare la nostra cara sorellina E mi spiace sorellina cara ma sto giro Non potrò salvarti sorella Non potrò salvarti, no Vabbè, apriamo quella porta e scendiamo Andiamocene direttamente verso il Dead Park Andiamo dritti lì Le torre di controllo le attiviamo dopo per il prossimo finale Se noi attiviamo le torre di controllo Ma perdiamo contro hit Sblocchiamo il finale triste Ma prima vediamo il finale quello brutto Poi dopo quello triste Poi dopo capirete perché lo chiamo finale triste Nel gioco lo chiamano finale medio Ma in realtà è un finale triste Fidatevi perché sarà molto triste Ok, ok, andiamo dritti, dritti, dritti Vediamo se c'è qualche ranocchietta che gira qui intorno Non c'è nessuna ranocchia Meno male, meno male Eccola lì Sì, sì, sta di qua Via, via, via No, 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 no Corri, corri Perché va piano? Perché va piano? E dai, e ce la fai a correre E mamma mia, e mamma mia Devo dire che veramente ha dei problemi alle gambe sto personaggio Ha dei seri problemi alle gambe Perché non è possibile che ogni volta che devo correre Se va prima piano, piano, piano E poi dopo accelera Veloci, veloci No, no, no Lasciamo perdere questi ranocchietti Lasciamoli perdere Poi ce li occuperemo dopo quando dobbiamo attivare di nuovo le torre di controllo Ma adesso non le attiviamo Ora dobbiamo andare dritti al parco Prendere il ticchettino E poi andarcene al dead park Cioè andare da hit Veloci, veloci Perfetto, perfetto Dai Sta parte la stiamo facendo molto velocemente Beh, dopo tutto ci sta Ci sta Ormai l'abbiamo fatta più volte Quindi È inutile stare dietro sempre alle stesse parti Va bene Perfetto Ma qui c'è qualcosa Cos'è? Ma Ma qui c'era un medikit Io non l'avevo mai visto Non l'avevo mai visto sto medikit Eppure ci sono passato 300.000 volte qua davanti Va bene Entriamo dentro il dead park E affrontiamo Hit Hit il clown Anche se stavolta sarà lui che dovrà vincere Dovrà vincere hit Adesso la cosa più difficile comunque Non è tanto Perdere contro hit O vincere quello che c'è da fare Ma È riuscire a mettere sto biglietto Perché qua ci sono tutti i mostri Tutti i mostri sono di qua Ok prendiamo tutte le cartucce che troviamo Veloce veloce Su su Prendi qua Prendi qua Perfetto perfetto Cerchiamo solo di non farci vedere Eccolo infatti Lì ce n'è già uno Lì ce n'è già uno No 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 Via via No 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 Non ti Mi sa che mi son bloccato Mi son bloccato come un Pollo Ah ma qua non mi possono prendere Meglio così Meglio così Guardate qua non ci arrivano Non ci arrivano Ma è bella sta cosa Spettacolare Ma qui c'è qualcosa Si può entrare qua dentro No Però passo in mezzo alle scale Ma che bello Ma che bello Con questo video tecnicamente Si conclude la modalità storia di Dead Park 2 Ma non vi preoccupate Perché la serie in realtà non finisce qua Innanzitutto ci saranno dei nuovi aggiornamenti Perché quando noi finiamo qua il gioco C'è un messaggio che dice Continua Quindi vuol dire che la storia di per sé Continuerà Ci sarà un seguito Oltre questo Ma cos'ha Ma guardate come si è bloccato No 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 Dove vai Dove vai Mi stavo divertendo Conte Mi stavo divertendo Oh viene qua Viene qua Mi stavo divertendo No ma guardate Si blocca Si blocca E poi non va più avanti Guardatelo qua che bello Che bello di mamma Abbiamo trovato un trucco Per poter eliminare tutti questi mostri Qui c'era un altro Viene qua Viene qua Ranocchietta Viene qua Questa è una ranocchia No però questo forse Ah ok Mamma mia Guardatelo qua Come mi ha aperto la bocca Tutta in quel modo C'è quello gigante Viene qua Wow uomo gigante Che è venuto Vai 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 Colpisci 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 E vai sto diventando un cecchino nato Vabbè tu vai vai no Just Fields Non ti preoccupare Io nel frattempo cometerano un bug Primo biglietto Che in realtà è uno Però il primo biglietto che mettiamo in questo video Perfetto Abbiamo attivato il trenino Ciof ciof Uff, vai trenino, vai, vai e distruggi il muro di legno che si è creato lì davanti Mi ricordo su Dead Park 1 che quando passavo qui il trenino dovevo raccogliere le travi di legno Ora invece non è più necessario, meno male, meno male, veloci, veloci C'è qualcuno che mi segue? Non c'è nessuno che mi rincorra Meglio così, meglio così, ora dritti, dritti e andiamo ad affrontare Hit, hit il clown versione gigante Perfetto, veloci, veloci, su, su, andiamo di qua, andiamo di qua Ora dovrebbe comparire un palloncino, ma non lo prendiamo subito Voglio vedere però qui più avanti che cosa c'è Perché effettivamente non l'ho visto Ora sì, c'è qua il palloncino di Hit Ma voglio proseguire, voglio vedere qua se si può andare avanti No, non si può andare avanti, per ora, per ora Ma ricordiamoci che esistono le mod di questo gioco E quindi possibilmente in un prossimo video possiamo provare ad esplorare tutto quanto lo scenario di Dead Park 2 Tramite la mod, sarà veramente molto molto divertente Va bene, prendiamo qua il palloncino Ma se io sparo qua il palloncino, che succede? Ah, non succede nulla se sparo il palloncino Niente di niente, va bene, adesso preoccupiamoci di Hit Comparirà Hit il clown, versione gigante Ciao Hit, da quanto tempo mi sei mancato Mi sei mancato Si è scoperto anche meglio di quanto pensassi Hai avviato il treno, il che significa che tu stesso eliminerai tua sorella Orgogliosi di te, cucciolo Non so il volume così anche voi sentite meglio Prendiamoci del tempo per goderci questo momento Il treno è già vicino Ha 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 Sta arrivando il treno, sta arrivando dai Lo voglio prendere pure io il treno Pure io voglio salire sul treno Che sta prendendo mia sorella Come sta cosa che mia sorella prende il treno io non lo posso prendere Ma se io salgo qua sulla leva Si può provare Tanto qua devo perdere, devo perdere Quindi tecnicamente Posso pure fare tutti gli esperimenti per perdere tempo Se io salgo così No, non funziona il metodo che c'era sui Volnan Tiro qua la leva Succede qualcosa, non succede nulla Va bene, di qua non si può andare Non si può scendere No, volevo provare a scendere E andare dove c'è direttamente mia sorella Qua forse Aspettate Pensavo che forse fossi riuscito a passare di qua Su, abbassati qua In questo modo Vediamo se funziona il metodo Mr. Meat Alzati No, non si può scendere Pensavo di essere riuscito a scendere No No, peccato Vabbè, godiamoci adesso quel filmato Ci sarà Hit che ci ringrazierà Ciao treno Ciof, ciof Eh, mia sorella sta per prendere il treno Aiaiaiai Però sta scena qua fa Molto dolorosa Ti ho detto che non puoi salvare tua sorella Perdente Ah, mi ha dato del perdente Hit Eh, scusa, come ti permette Ora posso uscire nel tuo mondo Ma prima c'è una piccola cosa Che cosa? Parla Hit, parla Mi deve eliminare No Oh mamma mia Oh mamma Però qui c'è scritto continua Quindi tecnicamente poi la storia continuerà Vediamo Charlie non ha potuto salvare sua sorella Lily non si è mai svegliata No, mamma mia Le torri di sicurezza non sono state attivate Charlie ha lasciato la città E ha cercato di raggiungere i militari Ma i mostri l'hanno catturato Ed eliminato No Farland è ancora isolato E divenne un campo di prova militare Ah, così Eh, proprio che finale è brutto Altro che pessima fine che hanno scritto qua Questo è veramente un brutto finale Proprio uno dei peggiori scenari Cioè Il personaggio è stato eliminato Charlie è stato eliminato La città è diventato un campo di prova militare Niente si è salvato Hit Che sicuramente è uscito fuori dal mondo Perché lui stesso l'ha detto Ora potrò uscire fuori Mia sorella che neanche si è svegliata Insomma Tutto male È andato tutto male Ma adesso vediamo l'altro finale Sarebbe un finale medio Ma in realtà È un finale triste Perché qui dobbiamo attivare le torri di sicurezza Ma non dobbiamo salvare Lily Ci sarà un nuovo finale speciale Fatto apposto per questa situazione Siete pronti a vederlo? Ma prima dobbiamo tornare qua indietro E rifare una nuova partita Su, tocchiamo play Quindi prendiamo qua Dal salvataggio che abbiamo fatto prima Dove abbiamo salvato qui al prologo Dopodichè questa volta andiamo ad attivare le torri di difesa Perfetto Ciao Andiamo di qua Veloce veloce Apri sta porta Perfetto Apri sempre di qua Su su Apri 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 Ciao sarellina Ciao E mi spiace Neanche stavolta potrò salvarti Neanche stavolta potrò svegliarti Quindi niente È stato un piacere Scusa Mi è partito così un colpo Mi è partito un colpo così Va bene Apriamo la porta Usciamo fuori Andiamo direttamente Ad attivare le torri di controllo Ok Andiamo di qua Apriamo la porta Mi sembra che una torre di controllo Si trovi già da queste parti Qui vicino Secondo me Avrebbero potuto sparpagliarle meglio Ste torri Perché si trovano subito Si trovano subito Sono tutte vicine Poi magari fatemi sapere Se vorreste vedere un video Dove invece andiamo ad esplorare Tutta la città di Farland Se magari ci sono zone nascoste Che non abbiamo ancora esplorato Magari anche oggetti segreti Chi lo sa Chi lo sa Ok Qua c'è una prima torre di sicurezza Non c'è nessuno da queste parti Quindi Che dite Attiviamola Una è stata attivata Prendi qua le cartucce Perfetto Prendiamone altre Qui ce ne sono altre Che le raccolgo subito Ora dobbiamo attivare La seconda torre di sicurezza Che si trova Via 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 Devo conservarmi le cartucce Devo conservarle Perché non si sa mai Dentro il parco Si trova di tutto Si trova qualunque creatura Lì dentro Quindi meglio conservarsene Ora però mi sono perso Mi sono perso non più Ho ritrovato la giusta via La giusta strada No di nuovo Staranocchia qua No 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 Aiuto 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 Non dobbiamo farci prendere Da staranocchie Eccoci qua Passiamo nella seconda zona Della città Qui Entra qua dentro E ora esploriamo questo lato E vai Ok La seconda torre di controllo Mi sembra che sia di qua Qui vicino L'abbiamo già fatto nel video scorso Però Beh Mi sembra Mi sembra Dovrei ricordarmene ancora le posizioni Dovrei ricordarmene Lì ci sono altre due ranocchie lì vicino Via 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 Scappiamo 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 Ok ok Dobbiamo andare qua dentro Speriamo che non ci sia nessuno da queste parti Io so già che mi beccherò il mondo Mi beccherò il mondo Ok E infatti Proprio lì davanti Su su Via 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 E lì No 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 Sto qua che deve fare Ricarica di cartucce Mamma mia Su Corre Corre Veloce Veloce Metti qua Attiva sta torre di sicurezza Di controllo E ora ce ne andiamo dritti al dead park Via 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 Non dobbiamo farci vedere da quei cosi Scappiamo 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 Dritti verso Eh no Eh ma 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 Dai Tutti qua sono Tutti qua allegramente insieme a me Ma io me ne scappo Me ne vado dritta da questo lato Qui c'era un medikit Ora me la Cosa Ma quante robe hanno messo qua Che io manco me ne ero accorto Prendi qua sto medikit E su su raccogli raccogli E ora Prepariamoci a vedere il finale triste Va al parco della morte per salvare tua sorella Eh sì è la quarta volta Praticamente che ci vengo in questo Parco È la quarta volta che vengo qua Ora di nuovo come prima Dobbiamo raccogliere il biglietto Ma dobbiamo fare molta attenzione Alle creature Che hanno infestato il parco Facciamo attenzione a loro Perfetto Raccogli qua Prendi quel biglietto del treno E ora Con molta calma Con molta tranquillità Dobbiamo cercare di raggiungere La torre di sicurezza Che si trova dall'altro lato del parco Quindi Dobbiamo fare attenzione Mi sa che sto giro Li dovrò affrontare tutti i mostri Oppure no Non lo so Vediamo cosa riusciamo a combinare Ok Prendi qua il medikit Siamo a nove medikit Ma vabbè non importa Veloci veloci Andiamo di qua Sapete che faccio Io già che ci sono Il biglietto lo metto Scusate ci sono Ne approfitto No Vai Vai Metti il treno Metti il treno Tanto non c'è nessuno Da queste parti No seriamente Ora si c'è qualcuno C'è quello gigante No C'è quello gigante Aiuto 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 Non dobbiamo farci prendere da lui Non dobbiamo farci prendere Ma soprattutto non dobbiamo farci vedere Perché se lui ci vede È la fine Ma io direi di mettermi un'arma più potente Eh no Sapete no Ok questo lo elimino Perché è già qui vicino Elimina Elimina Mamma mia quante cartucce Ma questa arma è debole allora È debolissima Ok Messo questo E ora attiviamo la torre di controllo E vai Guardate qua che bello Vai Che bella luce che si attiva Tutte e tre le torre sono state attivate Ma ora corriamocene verso Hit Via 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 Scappiamo 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 Prima che sti cosi mi prendano Mamma mia ma cosa sono sti mostri Qualcuno mi spieghi cosa sono Ma poi cosa c'entrano con il clown Cosa c'entrano I mostri di Hit mi stanno cercando Mi vogliono prendere No Andiamo di qua Perfetto in questo modo Da questo lato Come prima prendiamo gli ingranaggi Ma questa volta non dobbiamo vincere contro Hit Dobbiamo perdere Perché si sbloccherà il finale più triste del gioco Un finale veramente tristissimo Succederà una cosa veramente molto brutta Ok Raccogli qua le marce Mi piace che le chiama marce Quando in realtà sono ingranaggi Vabbè dopotutto per chi non lo sapesse Le marce delle automobili Sono comunque costituiti da vari ingranaggi Quindi di per sé Il collegamento ci sta Va bene Prendiamo il palloncino di Hit E ora vediamo qua Vai Di nuovo qua Di nuovo da Hit Ciao Hit Sono tornato da te Sono tornato a farmi abbracciare di nuovo da te Si è scoperto anche meglio di quanto pensassi Sì sì ok Sono le stesse parole di prima Quindi Vabbè dai Hit Ripeti sempre le stesse parole Schippiamo Va tanto dice sempre la stessa Non è che cambia Cambia un po' di vocabolario Hit Usi sempre le stesse parole Per un po' cambia Vedo se trovo qualche punto dove potermi Gettare da sto lato Da queste parti Proviamo a vedere Di qua no Non mi fa scendere Di qua Eh peccato qua Qua mi sono bloccato Ah ok No mi ero bloccato realmente Di qua non ci posso andare Niente volevo sfruttare queste aperture Per cadere Ma mi sa che gli sviluppatori Avevano già pensato a questo Quindi me l'hanno bloccato subito Ok vediamo in questo modo Se io mi abbasso qua E poi mi rialzo No no non funziona il metodo Mr. Meat Su e giù su e giù Non va non va Vabbè non importa E ora godiamoci il filmato finale Il finale più triste No Perché doveva succedere a Charlie Sta cosa Perché Ciao trenino Ciao Ma ci sarà almeno qualcuno Che lo sta guidando sto treno Così a caso No si muove Si muove così Sul momento Eh E sempre che se la ride questo Sto clown bello di mamma Ti ho detto che non potevi salvare Tua sorella Perdente Ancora che mi chiama perdente questo Ma come si permette Oh Ora posso uscire dal tuo mondo Ma prima c'è una piccola cosa Eh vieni Hit Vieni pure qua nel mio mondo Sì sì Adesso dirà che mi vuole eliminare Vieni pure Hit Qua nel mio mondo eh Così poi ci vediamo veramente Faccia a faccia Eh caro clown Caro Hit Ma no No Finale triste Charlie è sopravvissuto Ma non è riuscito a salvare Lily Povera Lily No Grazie a Charlie Sono state attivate le torri protettive Che hanno impedito a nuovi mostri Di entrare nel nostro mondo Però purtroppo Lily Non ce l'ha fatto Il progetto DreamMatcher È stato chiuso Farland è tornata a vita normale Ma Charlie si incolpa ancora Della morte di sua sorella E vedete perché è triste questo finale Perché comunque Charlie Vivrà con i sensi di colpa Per non essere riuscito A salvare sua sorella Lily Mamma mia Questo era il finale più triste Di Dead Park 2 E l'abbiamo visto insieme Quindi bene Abbiamo praticamente completato L'intera serie di Dead Park 2 L'intera modalità storia Ovviamente gli sviluppatori hanno detto Che ci saranno nuovi aggiornamenti Con nuovi mostri Quindi vuol dire che La serie non finisce qua Ci saranno nuovi video Dove vedremo insieme Le tante novità Che verranno aggiunte Ma soprattutto preparatevi Perché nei prossimi video Voglio provare a fare pure Gli esperimenti tramite le mod E vorrei fare pure video Dove andiamo ad esplorare Le parti della città Che non abbiamo ancora visto insieme Secondo me ci sarà Tanto da scoprire Va bene dai Direi di fare una cosa Direi di finire qua Questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spolliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo In un prossimo video Come sempre vi auguro Una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti E tanti cari saluti Da Hit Il clown Bello di Mamba Ciao